Siamo con Nadia e Luca e loro oggi sono venuti da abbastanza lontano. Bassano dei Grappa, San Giuseppe di Cassola, proprio il paese, la parrocchia. Cosa vi ha entusiasmato e colpito di più delle parole del Papa? Beh, alzati e vai, non stare seduto, non stare fermo, ma professa in tuo cammino, fa qualcosa di importante. E speriamo di farlo sempre questo. Una giornata impegnativa per il Santo Padre, che è stato prima la Giudecca, poi la salute. C'è qualche passaggio di questi momenti che più le è rimasto nel cuore? La Messa è molto emozionante, sono un paico scelico come la Casa San Marco, unica al mondo, per cui è una cosa veramente emozionante. E una parola che l'ha toccata di più? La parola pace. La parola pace. Di cui tutti ne abbiamo bisogno. Grazie, grazie mille. Veramente, grazie, è stato emozionante, la Messa è super, bellissima, proprio, grazie di cuore. Grazie.